Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno nel Brunei. In questo momento mi trovo all'interno della residenza del Sultano. Sono riuscito a intrufolarmi qui dentro, approfittando del cambio della guardia. C'è quell'attimo in cui si danno il cambio, è rimasto incustodito, sono entrato qui dentro per scattare qualche foto, vedere un po' come si vive qui la reggia del Sultano, che è anche il capo religioso e spirituale del paese, è un paese integralista musulmano e il Sultano detiene tutti i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Ecco, vi faccio un po' vedere qui com'è questo posto. Allora, scusatemi per la calura, ecco qua, questo che vedete qui è il famosissimo il famosissimo Buccintoro del Brunei, è il Buccintoro del Brunei, questo qua è un po' diciamo lo stile architettonico, guardate abbiamo, non c'è nessuno, come potete vedere non c'è nessuno, noi facciamo un giro approfittando, ecco queste qui sono delle delle coltivazioni, mi hanno raccontato che il Sultano, lui passa tantissimo tempo a coltivare, lui ama tantissimo la botanica, coltiva delle specie qui del Borgno, fa queste coltivazioni, ecco come potete vedere il posto è molto bello e ci sentiamo alla prossima, ciao!